Questo è uno stretch per arabesque, questo è stato il stretch per arabesque. Ci mettiamo al muro e cerchiamo di avvicinarci in maniera obliqua al muro. We try to get closer to the wall, this way. E a questo punto spingiamo in avanti il bacino, lo basculiamo in avanti. We basculate the basic forward e poi cerchiamo di alzare l'arabesque mantenendo questa posizione. Then we try to lift the arabesque, maintaining this position as if we were whisked it on the wall. Possiamo anche fare attitudine. In ogni modo, questo sforzo, questa resistenza che si crea ci aiuterà poi ad alzare più anche l'arabesque. Ok, this effort that is created by this position will help us to melt the hips and get our arabesque higher. Quindi, come se stessi così e cercassi di alzare l'arabesque. Giustanto che appunto, sforzo tenendomi con le arche verso avanti, uguali. Ok, voilà!